buongiorno e benvenuti in questa visita guidata di solo affitti lecco oggi vi presentiamo un trilocale con posto auto e box a calolzio corte soggiorno con terrazzo cucina abitabile molto ampia anch'essa con terrazzo prima camera da letto e seconda camera bagno con vasca per maggiori informazioni chiamare lo 0341353644 oppure scrivere all'ecco1 chiocciola solo affitti punto it